Oggi parleremo dell'impatto dell'IA sul mondo moderno. Lavoro, musica e robotica. L'intelligenza artificiale, IA, rappresenta la frontiera dell'innovazione tecnologica, promettendo di rivoluzionare ogni aspetto della nostra esistenza. La sua crescita esponenziale è alimentata da progressi in algoritmi di apprendimento e potenza di calcolo, prefigurando un futuro in cui l'IA sarà pervasiva e onnipresente. L'evoluzione dei lavori è un fenomeno in corso, accelerato dall'adozione dell'IA. Questa tecnologia sta rimodellando il mercato del lavoro, trasformando professioni esistenti e creandone di nuove, spingendo lavoratori e aziende verso l'adattamento e l'apprendimento di nuove competenze. Nel settore musicale, l'IA sta aprendo le porte a generi inesplorati e collaborazioni tra artisti e algoritmi. Questa sinergia unica permette la creazione di composizioni che sfidano i confini tradizionali della musica, promettendo un'era di innovazione senza precedenti. La robotica sta vivendo una rivoluzione grazie all'IA, con lo sviluppo di robot sempre più sofisticati e autonomi. Questi avanzamenti promettono di trasformare settori come la manifattura, la logistica e persino l'assistenza domestica, rendendo i robot parte integrante della nostra vita quotidiana. L'impatto dell'IA sull'educazione è profondo, offrendo strumenti per la personalizzazione dell'apprendimento. Gli algoritmi possono adattarsi al ritmo e allo stile di apprendimento di ogni studente, migliorando l'efficacia dell'insegnamento e rendendo l'educazione più accessibile e inclusiva. Nel campo della medicina, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui vengono effettuate diagnosi e terapie. Grazie all'IA è possibile identificare malattie in una fase molto precoce, aumentando così le possibilità di successo del trattamento. Questo approccio personalizzato consente ai medici di adattare le cure alle specifiche esigenze di ogni paziente, migliorando significativamente i risultati. L'introduzione degli assistenti virtuali e delle smart home ha reso la vita quotidiana più semplice e intuitiva. Con un semplice comando vocale è ora possibile gestire dispositivi, organizzare appuntamenti e persino fare acquisti online. Questa tecnologia, basata sull'IA, apprende dalle nostre abitudini e preferenze, offrendo soluzioni sempre più personalizzate e intelligenti. Nel settore della sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale ha aperto nuovi orizzonti. Grazie all'IA è possibile rilevare e neutralizzare minacce informatiche in tempo reale, proteggendo dati e infrastrutture critiche. Tuttavia questo progresso porta con sé nuove sfide, poiché hacker utilizzano a loro volta l'IA per elaborare attacchi sempre più sofisticati. L'etica diventa un argomento cruciale quando si parla di IA. Le implicazioni morali dell'utilizzo della intelligenza artificiale sollevano importanti questioni sulla privacy, sull'autonomia individuale e sulla responsabilità delle decisioni prese dalle macchine. È fondamentale stabilire linee guida etiche chiare per garantire uno sviluppo responsabile dell'IA. Infine, l'avvento dell'IA ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza del posto di lavoro, con molti settori a rischio di automatizzazione. Tuttavia, questa transizione offre anche l'opportunità di riorientare la forza lavoro verso compiti più creativi e strategici, sottolineando l'importanza dell'adattabilità e dell'apprendimento continuo. L'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il panorama tecnologico, passando dall'apprendimento automatico all'apprendimento profondo. Quest'ultimo approccio permette alle macchine di processare dati a livelli di complessità precedentemente inimmaginabili, aprendo la strada a innovazioni senza precedenti. Nel settore delle arti visive, l'IA sta ridefinendo i confini della creatività. Artisti e tecnologi collaborano per creare opere che sfidano la nostra percezione della realtà, utilizzando algoritmi che possono imitare stili o generare opere completamente nuove. La sostenibilità e la gestione ambientale beneficiano enormemente dell'IA, che può analizzare grandi quantità di dati per prevedere cambiamenti climatici, ottimizzare l'uso delle risorse e migliorare la gestione rifiuti. Questo rappresenta un passo avanti cruciale verso un futuro più verde. I veicoli autonomi promettono di rivoluzionare il nostro modo di viaggiare, riducendo incidenti stradali e migliorando l'efficienza del trasporto. L'intelligenza artificiale sta al centro di questa trasformazione, guidando lo sviluppo di sistemi di navigazione sempre più sofisticati. Nel settore retail, l'IA sta personalizzando l'esperienza di acquisto come mai prima d'ora. Analizzando i dati dei consumatori, può offrire raccomandazioni su misura, ottimizzare le scorte e persino prevedere le future tendenze di acquisto, rendendo ogni esperienza unica. Nel settore cinematografico e dei videogiochi, l'intelligenza artificiale sta aprendo orizzonti inesplorati. Dalla creazione di effetti visivi sempre più realistici alla generazione di trame complesse, l'IA promette di rivoluzionare l'esperienza degli utenti. L'IA sta trasformando anche il settore finanziario e bancario, rendendo le operazioni più sicure e veloci. Grazie all'analisi predittiva, è possibile identificare tendenze di mercato e prevenire frodi, migliorando l'efficienza e proteggendo i clienti. Nell'agricoltura, l'introduzione dell'intelligenza artificiale sta portando a una gestione delle risorse più sostenibile. La capacità di monitorare le coltivazioni in tempo reale e prevedere le anomalie climatiche aiuta a ridurre gli sprechi e aumentare la produzione. L'IA sta rivoluzionando il giornalismo, automatizzando la raccolta e l'analisi delle notizie. Questo non solo accelera la diffusione dell'informazione, ma permette anche la sua personalizzazione, rendendo l'informazione più accessibile e mirata. Infine, nel campo della ricerca scientifica, l'intelligenza artificiale accelera la scoperta, analizzando grandi volumi di dati in tempi brevi. Questo apre la strada a progressi significativi in diversi campi, dalla medicina alla fisica, promettendo soluzioni a lungo cercate. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo il futuro del lavoro, introducendo nuove competenze richieste. La capacità di interagire con sistemi automatizzati e di adattarsi a tecnologie emergenti diventa cruciale, spostando l'attenzione verso l'apprendimento continuo e la flessibilità. La governance dell'IA solleva questioni importanti su regolamentazione e controllo. Con l'accelerazione dello sviluppo tecnologico, governi e organizzazioni internazionali sono chiamati a stabilire norme etiche e legali che indirizzino l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Nel commercio elettronico, l'IA trasforma radicalmente l'esperienza di acquisto online, offre raccomandazioni personalizzate basate sul comportamento degli utenti, ottimizza la gestione delle scorte e migliora il servizio clienti, rendendo lo shopping più intuitivo e soddisfacente. L'intelligenza artificiale personalizza l'esperienza sui social media, analizzando i dati degli utenti per fornire contenuti su misura. Questo non solo aumenta l'engagement, ma solleva anche questioni sulla privacy e sull'autonomia delle scelte online. L'intelligenza artificiale influisce profondamente sui servizi pubblici e l'amministrazione, ottimizzando l'efficienza e elevando la qualità di ciascun servizio. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la gestione delle emergenze e delle catastrofi, permettendo risposte più rapide e precise. Grazie all'IA è possibile analizzare grandi quantità di dati per prevedere e mitigare impatti di eventi avversi. Nel settore sportivo, l'intelligenza artificiale introduce innovazioni rilevanti, migliorando le prestazioni atletiche e arricchendo l'esperienza degli appassionati. Grazie all'analisi predittiva e alle simulazioni, si sviluppano strategie più complesse e su misura. Il futuro dell'intrattenimento è intrinsecamente legato all'IA, che promette di creare esperienze immersive e personalizzate. Dalla realtà virtuale ai giochi interattivi, l'intelligenza artificiale apre nuove frontiere per creatori e pubblico. L'industria immobiliare beneficia enormemente dell'IA, specialmente nell'ambito delle valutazioni e delle previsioni di mercato. Le analisi predittive aiutano a comprendere meglio le tendenze, migliorando le decisioni di investimento e le strategie di vendita. L'IA rappresenta una risorsa preziosa verso un futuro migliore, ma porta con sé sfide etiche e regolative importanti. La chiave sarà bilanciare innovazione e responsabilità, garantendo che i benefici dell'IA siano accessibili a tutti.